Il duplice furto dell'altra notte nel cuore del centro storico di Fano ai danni di due negozi ha riaperto il dibattito sulla sicurezza coinvolgendo oltre che le parti politiche anche le associazioni di categoria e i commercianti stessi. Confesercenti per la voce del suo direttore Tiziano Pettinelli ha definito senza mezzi termini questa della sicurezza un'emergenza prioritaria ma con diversi tentacoli come il decoro urbano, lo svuotamento progressivo del centro e di allarmi che più volte sono stati lanciati alle istituzioni nel perdurare di questa congiuntura negativa tutti però andati inesorabilmente a vuoto ed ora queste sono sotto gli occhi di tutti le tragiche conseguenze. Di parere concordante sulla linea del decoro e dell'appeal del centro storico come deterrente per i malintenzionati anche Confcommercio che vede però nella videosorveglianza un grande alleato delle forze dell'ordine. A seconda appunto di chi andrà su per il discorso delle elezioni amministrative è logico che noi chiediamo che la città sia abbia proprio un'idea devono avere un'idea di città la città deve essere decorosa la città deve essere appetibile e la città deve essere soprattutto sicura perché è questo che crea poi l'indotto nel commercio quindi se non si crea questo logicamente non si può avere un'idea di città e riportare la città ad alti ad alti livelli. Sulla necessità di una videosorveglianza più attiva e serrata spinge da tempo anche Stefano Polleggioni che però vede anche nel presidio del territorio con pattuglie e sorveglianza attiva un'ulteriore cellula di sicurezza utilizzando anche le forze di polizia locale. Sono convintissimo che un'amministrazione comunale debba dare risposte ai cittadini anche in questo tema e quindi debba fare delle cose e mettere a disposizione le proprie possibilità per cercare di rendere più sicura questa città. Noi abbiamo la polizia municipale che capisco che è limitata su questo servizio però noi la polizia municipale può fare e mettere in atto delle cose che possono andare in aiuto e essere una forte collaborazione e collegamento con la polizia dei carabinieri che purtroppo hanno un territorio grandissimo da controllare qui a Fano.